Buongiorno, oggi è il 17 aprile del 2014, c'è quel versetto bellissimo di Romani 8 a 28 che credo un po' tutti conosciamo che dice tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Diverse volte citando questo versetto ho raccontato una mia testimonianza personale, sento di condividerla ancora stamattina o in questo giorno o anche, non importa, quando tu stia vedendo questo video forse saranno passati giorni, settimane, mesi, anni, però probabilmente questa parola è per te oggi. Abitavo a Palermo anni e anni fa, nel 1995, al 1994, al 1998, fu per me un periodo bellissimo e straordinario da certi punti di vista è tremendo e pessimo da altri. Spiritualmente parlando la mia vita cresceva, ero sempre più impegnato nella mia comunità, avevo sempre più responsabilità e vedevo veramente Dio toccare la vita di tante persone attraverso quello che potevo fare per Lui. Ma nello stesso momento, nello stesso periodo, attraverso un momento economico molto difficile, molto particolare, fu licenziato dall'azienda nella quale lavoravo per crisi e di lì inizio una sorta di calvario economico perché non avendo io un diploma né una specializzazione cominciavo a fare tutti i lavori possibili ed ero molto assiduo in comunità, sette giorni su sette, la domenica addirittura riuscivo a fare tre culti, ma c'era questo aspetto, quest'area della mia vita che non si sbloccava e credevo, dichiaravo, confessavo, davo la decima, facevo un sacco di cose, ma niente, per quattro anni e mezzo abbondanti, questa situazione fu tremenda. Mi ricordo una sera ero a casa, stavo per andare a letto e ero veramente disperato, non avevo soldi, a stento riuscivamo a comprare il pane in alcuni giorni, avevo già sposato, poi in questi anni anche arrivarono pure i primi due ragazzi, i figli, Davide e Alessandra, fu un momento molto difficile, mi ricordo in una di queste serate Dio mi disse, vai nel salone, stavo per andare a coricare, vai nel salone, prendi un foglio di carta, una penna, apri la Bibbia, prendi la chitarra perché voglio darti un canto e io disse a Dio, signore non voglio un canto, io voglio un assegno, non voglio avere un canto, non voglio ricevere un canto, io voglio ricevere dei soldi perché devo pagare l'affitto, devo comprare la spesa, devo provvedere per la mia casa e devo dirvi che ogni volta che io gridavo, piangevo, mi sbattevo la testa al muro e andavo avanti, Dio continuava a farmi delle promesse, non mi dava mai una risposta per quel momento che stavo attraversando, ma mi dava sempre delle promesse, ringrazio Dio per come il Signore ha anche usato tanti fratelli e sorelle per benedire la mia vita, per provvedere a me e alla mia casa, lavoravo 13 ore, 14 ore al giorno in alcuni momenti e non riuscivo, era come mettere dei soldi in una borsa forata, come è scritto nel profeta Geo. Insomma fu un momento molto difficile, nello stesso tempo insegnavo nella scuola biblica, facevamo evangelizzazioni, vedevamo non decine, centinaia di persone convertirsi, guarigioni straordinarie, testimonianze impressionanti, quando insegnavo sulla fede, vedevo le persone che venivano da me e mi dicevo Corrado ha insegnato sulla fede, ho pregato, ho dichiarato, ho dir risposto e io mi mangevo le mani perché dicevo perché funziona con altri, con meno, insomma un momento tremendo. Grazie a Dio quel momento finì, poi il Signore mi benedì con un lavoro straordinario, con uno stipendio meraviglioso, riuscì a pagare quello che dovevo pagare, insomma ci fu un totale cambiamento per grazia di Dio. Ma perché sto dicendo questo? Perché parecchi anni dopo mi ritrovai in una comunità in Italia e una sorella molto cara venne da me e mi disse Corrado io voglio raccontarti una testimonianza, io sono mamma di due figli e quando ho saputo di essere incinta dal secondo figlio, nell'ecografia mi dissero che mio figlio aveva la sindrome di Down disse io non potevo sopportare questa idea e per fare breve la cosa disse io volevo suicidarmi, volevo buttarmi al balcone io e fare morire con me anche il bambino che avevo in grembo avevo già deciso, avevo già programmato, avevo fatto andare via tutti quanti quella mattina mi trovavo solo a casa e in un momento così di lucidità presi una cassetta, la misi nello stereo, mi trovavo quasi sul balcone e quando accesi la radio senti quella canzone tua che diceva Quando passerai attraverso le acque io sarò con te perché tu appartieni a me dice lei mi disse io non so quando hai scritto questa canzone, non so che cosa stavi passando non so come è successo, cosa è successo nella tua vita e come era la tua vita in quel momento però voglio dirti Corrado che tu hai ricevuto quel canto per me dissi ero nel balcone di casa mia e mi inginocchiai e cominciai a chiedere perdono a Dio per quel pensiero ma subito dopo cominciai a ringraziare a Dio per quel dono che avevo in grembo lei portò avanti la capitanza, oggi questo ragazzo ha un po' di anni ed è veramente una grande benedizione una grandissima benedizione ora perché sto dicendo questo? Questo è il canto che io ricevetti proprio in quel momento disperato della mia vita certe cose che stiamo passando ora noi non le comprendiamo e non le comprenderemo ma probabilmente le comprenderemo a suo tempo e quando arriverà il momento in cui comprenderemo questo riusciremo sicuramente ad incoraggiare altri io non so che momento difficile stai attraversando però voglio dirti che questo momento difficile non è solo per te e questa è una rivelazione che il Signore mi diede e che voglio condividere con voi i momenti brutti, i momenti bui quando attraversiamo la valle dell'ombra della morte chiamiamola come vogliamo, quando attraversiamo le acque, quando attraversiamo il fuoco, quando siamo nel deserto diamo qualunque nome, la verità è che stiamo attraversando un momento difficile che stai attraversando un momento difficile e voglio dirti in questo giorno quello che stai attraversando non è solo per te sicuramente ne uscirai, sicuramente imparerai tante cose ne uscirai ancora più forte, ancora più grato a Dio però voglio anche dirti di avere una visione un po' più ampia tutte le cose coprono il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento c'è un proponimento, una chiamata nella tua vita e quello che stai attraversando ora appartiene alla chiamata di Dio nella tua vita un giorno tu testimonierai di quello che stai vivendo ora e altri saranno incoraggiati e altri troveranno la fede per uscire o per affrontare questa tempesta quindi quello che stai attraversando non è solo per te è anche per il beneficio di altri quindi fatti forza perché tu non solo affronterai non solo camminerai in mezzo alla tempesta ma ne uscirai a testa alta e vedrai la gloria di Dio non solo nella tua vita ma anche nella vita di altri quando ne parlerai, quando ne testimonierai Dio ti benedica, una buona giornata